Rifiuti, fondi comunali destinati all'ampiamento del palazzetto dirottati sulla discarica di Autigno, le partecipate come la Multiservizi, la Fondazione Teatro Verdi e tanto altro. Nel suo congedo dalla guida temporanea della città di Prindisi, il commissario prefettizio Cesare Castelli, già commissario della provincia di Prindisi qualche anno fa, fa un bilancio delle azioni intraprese insieme alla squadra che ha lavorato insieme a lui in questi due mesi di insediamento, iniziati il 16 febbraio scorso. È stata una bellissima esperienza, la prima è stata bella, la seconda bellissima, anche se molto faticosa, indubbiamente, perché la gestione di una provincia è cosa molto diversa rispetto alla gestione di un comune, poi è un comune che ha avuto dei traumi notevoli, insomma, non proprio. Però in questi tre mesi e mezzo in cui sono stato qui con i miei colleghi della gestione commissariale abbiamo cercato di, se non chiudere, perché è impossibile in tre mesi e mezzo capire, vedere e chiudere le situazioni, a meno riavviarle verso una certa direzione di ritorno a un'efficienza, a una trasparenza che spesso non c'era oppure era proprio molto labile. Speriamo di essersi riusciti. Comunque il mio ricordo di Brindisi, adesso che tra 15 giorni andrò avvio, sarà sempre molto molto bello. Il consiglio ovviamente è un tecnico, sono prettamente tecnici, no? Di riguardare bene il bilancio, la riorganizzazione delle società in house, soprattutto i rifiuti, di guardarli da un punto di vista strettamente di recupero dell'efficienza sia per le discariche e sia ovviamente per gli spazzamenti che ci sono all'interno della città. Poi ho cercato di prendere le decisioni più tecniche. Io sono straniero, allora le decisioni le prendo un pochino non travolto dalla passione, dal cuore. Per Autigno bisognava decidere se lasciare chiusa Autigno e quindi a questo punto con tutti i problemi, non solo quelli di natura penale, ma proprio i problemi più spiccioli, no? E tra l'altro farvi pagare prossimamente un Atari molto più forte di quella che c'è adesso, perché chiaramente il servizio per legge va coperto al 100%, oppure implementare il palazzetto, il basket, il palazzetto dello sport. È una decisione. Io ho preso la decisione perché ritengo che forse una città pulita, una città dove questi aspetti siano molto attenzionati, sia meglio che per il momento, come ho detto l'altra volta, no? Di avere un maracanà della ballaganestro, no? Vi ricordate quando l'altra volta lo dissi? È una scelta mia, cioè è una scelta che ovviamente è mia nel senso che abbiamo riflettuto a lungo. Ma questo non toglie che il sindaco, il consiglio che verrà, potrà cambiare la scelta. Si può fare il bilancio, il bilancio. Io l'ho chiuso in pareggio con tagli, sacrifici, ma questo non toglie che non è che è cristallizzato sulla multiservizi, sulle altre società in house. Abbiamo cercato di avviare un percorso diciamo più tranquillo, un discorso più trasparente, rivitalizzando soprattutto la multiservizi, chiaramente. Multiservizi è proprio, diciamo, è borderline, quindi se fa un passo a cosa bisognerebbe metterla poi in liquida. La conferenza stampa di congedo, avvenuta quindi dopo le elezioni a ridosso della nomina del nuovo sindaco, è completata dalla presentazione del nuovo sito del comune di Brindisi. Una interfaccia multimediale innovativa, fruibile da tutti e studiata sulla falsa riga di siti internet delle più importanti città italiane. Studiato per favorire anche il turismo multimediale, la piattaforma in rete è stata facilitata soprattutto in previsione della fruizione da parte dei cittadini meno esperti della navigazione multimediale, con un sistema di aggiornamento giornaliero per tenere informati tutti sulle varie azioni istituzionali. Il link per aggiungere il sito e navigarci resta quello di sempre.